Padre Jonas, com'è nato questo progetto e qual è la sua caratteristica? Il progetto è nato all'interno delle varie attività di Via Scalabrini 3, che è parte di SCS1 all'interno dei missionari scalabriniani. Noi siamo da 1887 accanto ai migranti rifugiati in giro per il mondo e abbiamo voluto con questi giovani che hanno partecipato a questa route farci ancora di più migranti con i migranti per comprendere meglio la complessità del fenomeno migratorio, soprattutto nella rutta balcanica, questa che abbiamo percorso. Il progetto si è strutturato in un viaggio dove siamo partiti dal confine con la Siria e arrivati a Trieste raccogliendo volti, testimonianze, parole, intuizione che è stata una tappa, non è stata una meta, è una tappa per ripartire, per raccontare storie, sensibilizzare l'Italia e l'Europa e poter incidere, chissà, positivamente sulla vita delle persone che abbiamo incontrato. Che tipo di percorso è stato approntato e quanti più o meno i migranti avete seguito e incontrato? Il percorso si sviluppava in questo modo. Siamo partiti da Gaziantep al confine tra Siria e Turchia, poi siamo partiti verso la Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia e arrivati a Trieste. Abbiamo incontrato migliaia di migranti lungo la rotta, abbiamo incontrato gli ambasciatori d'Italia a Belgrado, Sarajevo, Scopie, abbiamo incontrato tanti ONG e anche cristiani che si impegnano accanto ai migranti e ai rifugiati e abbiamo visto delle situazioni anche molto drammatiche purtroppo, ad esempio sull'isola di Samos o sui confini tra la Bosnia e la Croazia, un confine purtroppo molto violento che fa molte vittime, dove i diritti umani vengono calpestati ogni giorno. Quanti migranti che avete incontrato? Difficile dirlo, immagino, ma c'è una storia che ti è rimasta impressa? Sì, ci sono varie storie che mi sono rimaste impressa e soprattutto Clara, Clara è una ragazza che vive a Kirshir nel cuore della Turchia, una cristiana scappata dall'Iraq perché è perseguitata dall'ISIS. Ora si trova a Kirshir, quindi scappata da un passato travagliato e guarda verso un futuro incerto, infatti abbiamo una fotografia dove questa ragazza guarda la finestra perché è bloccata geograficamente lì, non può studiare, non può lavorare, quindi un punto di domanda su tutta la sua esistenza.